Ok, buonasera a tutti, sono Luca Boltri, vice direttore di Unic, Conceri Italiane. Benvenuti a questo webinar dedicato alla transizione energetica. Al posto mio oggi ci sarebbe dovuto essere Elisabetta Scaia del nostro Servizio Ambiente Capitolati, ma a causa di una emergenza familiare Elisabetta non riesce a partecipare e ha chiesto a me di introdurre e moderare questo webinar che vede la partecipazione di Marco Gianotti e Marco Colombari per la società di ingegneria Blue Foundation e di Danilo De Vigili della società di consulenza e comunicazione Collectibus. L'incontro di oggi è dedicato a uno dei tantissimi aspetti che compongono la sostenibilità delle concerie, del processo conciario e della produzione del materiale pelle. Si tratta di uno degli elementi, probabilmente nell'ultimo periodo, maggiormente attenzionati dalle imprese, non solo per esigenze appunto legate al miglioramento del consumo di risorse, degli impatti ambientali e dicendo diciamo in generale del miglioramento del grado di impegno verso la sostenibilità da parte delle aziende, ma ovviamente anche dei risvolti di carattere economico alla luce di quelle che è stata e che è tuttora l'evoluzione della situazione geopolitica internazionale con tutte le gravi, se non addirittura gravissime, in alcuni casi problematiche, sul fronte energetico che il nostro paese sta accusando. Quindi abbiamo accolto con molto favore l'invito di Blue Foundation e di Collectibus a organizzare questo incontro. Il tema della transizione energetica viene affrontato dalla nostra associazione anche all'interno del rapporto di sostenibilità dell'industria alconciaria che Unic pubblica ogni anno da più di vent'anni e che tocca a tutti quelli che sono gli argomenti principali che compongono appunto la sostenibilità per il nostro settore. Io mi taccio, prima di introdurre il primo relatore vi invito a fare domande, si tratta di un webinar quindi i partecipanti non possono parlare con i relatori, è possibile porre domande tramite l'apposita funzione in basso a sinistra dello schermo di zoom, domande e risposte, cercheremo di rispondere alle domande in tempo reale in maniera tale da essere tra virgolette caldi sui argomenti che vengono affrontati e niente, vi auguro un buon webinar. Il primo intervento è di Danilo De Vigili di Collectibus. Danilo ha iniziato a occuparsi di sostenibilità negli anni 90 lavorando in un NG gruppo di comunicazione e di consulenza, ha fondato Collectibus per dare un nuovo impulso alla sostenibilità integrando una strategia tra le soluzioni agile e digitali e ci parlerà di come creare valore sostenibile per affrontare, per rafforzare la resilienza aziendale. Danilo, la parola a te, se poi puoi condividere la tua presentazione. Grazie, sì, condivido, grazie dell'introduzione, vado a condividere, vado a condividere la, scusate, lo schermo, oddio. Dunque, vado a condividere lo schermo, cioè meglio la presentazione. Si dovrebbe vedere, ok, si vede a pagina intera, vi confermate? Sì, si vede. Ecco, la mia è un'introduzione a quello che diranno poi gli amici Marco e Marco, che è un tema più specifico, ed è un'introduzione che porta una riflessione, diciamo, su cosa bisogna intendere per valore. Perché, come diceva chi mi ha presentato, io mi occupo di questi temi veramente da tanti anni. Quindi ho visto un po' cambiare anche l'approccio alla sostenibilità. E soprattutto quello che sta capitando in questi giorni, in questi mesi o meglio, cioè questa esposizione all'aumento dei costi energetici, mi convince del fatto che forse in questi anni, ovviamente non sto parlando del vostro settore, con cui ho avuto anche piacere di collaborare, ma in generale forse non abbiamo compreso fino in fondo cosa significa gestire con un approccio sostenibile le imprese. E provo a spiegarmi con poche parole, ma in realtà il concetto di valore è un concetto che non esiste in natura, l'abbiamo inventato noi. Qui ci sono due dei grandi, diciamo, nemici di due concetti di valore completamente diversi, l'economista Keynes, il quale diceva che per creare valore lo Stato deve investire, deve spendere, deve aumentare la domanda, e lo vediamo proprio in questi mesi quanto questa esigenza è di nuovo in campo, perché ovviamente di fronte a emergenze come quelle energetiche, senza un aiuto di tipo governativo, veramente è molto difficile uscirne, per chi non ha già pensato alle cose che poi ci racconteranno gli amici Blue Foundation, mentre dall'altra parte c'era Friedrich Krier, il padre dell'ultraliberismo, il quale diceva, oddio, lo Stato se ne stia lontano, lasciamo fare al mercato. Oppure ci sono persone, penso ai volontari del Banco Alimentare, per cui ha valore tutto ciò che fa del bene alle persone. Quindi questo concetto di valore è cambiato anche nel corso della storia, perché c'è stata un'epoca in cui era di valore possedere la terra, un'epoca in cui il valore era attribuito ai beni preziosi come l'oro, l'epoca delle conquiste spagnole, eccetera. Poi il valore è diventato legato soprattutto alla produzione industriale e oggi, e questa secondo me è una critica che faccio al modello attuale di business, il valore è soprattutto finanziario. È valore ciò che crea valore finanziario. E questo credo ci abbia portato alla miopia di non considerare, come diceva chi mi ha preceduto, alcuni rischi finanziari e geopolitici in quello che stavamo facendo. Io penso che la situazione in cui siamo finiti, cioè dipendere, circa più o meno, l'ottanta per cento della nostra energia arriva dal gas, o perché usiamo gas, o perché usiamo il direttamento, o perché usiamo gas per fare energia, perché abbiamo guardato solo alla dimensione economica di convenienza di breve periodo, non abbiamo considerato elementi come rischi geopolitici. Quindi forse l'elemento di valore che porta la sostenibilità all'interno dell'economia e del modello di business è che la situazione è complessa e per gestire una situazione complessa bisogna prendere delle decisioni tenendo presenti aspetti economici ma anche di altro tipo. Questo secondo me è l'insegnamento più grande che ho imparato. Quindi so che voi siete molto esperti di sostenibilità per cui voglio andare veloce su alcuni concetti per lasciare poi lo spazio a chi mi seguirà. Quindi oggi veramente questo triangolo che molto spesso vediamo rappresentato, chiediamoci quanto è vero che è messo in pratica nelle nostre aziende, perché io penso che forse in molti casi l'abbiamo fatto di facciata e la sostenibilità economica è stata messa sempre al primo posto ed è stata forse una valutazione miope perché abbiamo preso delle decisioni non considerando gli scenari e i rischi e l'opportunità che arrivavano invece dalle valutazioni ambientali e sociali. Il caso dell'energia lo è palese e non vorrei che succedesse la stessa cosa per l'acqua. Quindi perché lo dobbiamo fare questo? Ma i motivi sono tanti. Ce lo chiede il pianeta perché ovviamente poi i temi di riscaldamento globale eccetera si traducono in impatti sulla nostra vita di cittadini o di lavoratori. Il pianeta camperà benissimo anche con dieci gradi in più. Il problema dei dieci gradi in più o dei tre, dei quattro ce l'avremo noi. ce l'avremo noi perché non avremo acqua non avremo avremo montate di calore eccetera eccetera. Quindi è questo oggi io infatti credo che oggi più che occupare ci dobbiamo occupare delle soluzioni ma ci dobbiamo anche occupare di mitigare gli impatti perché gli impatti arriveranno. Quindi non so questo significa provare a ragionare in che modo i nostri modelli di business potranno prosperare all'interno di un contesto in cui magari ci sarà scarsità d'acqua scarsità di certe materie prime eccetera eccetera. Ce lo chiede il mondo della finanza ovviamente oramai lo sappiamo i rating SG sono diventati uno dei criteri di valutazione del valore delle imprese accanto a quello economico anzi sempre di più con la doppia materialità la finanza chiederà alle imprese ma voi cosa state facendo per mitigare gli impatti e i rischi derivati dalla sostenibilità o per cogliere l'opportunità. Ci viene chiesto dalle istituzioni e in questo poi gli amici richiameranno l'attenzione sulle opportunità che le istituzioni ci stanno dando perché nel PNRR ci sono diversi soldini messi lì per favorire questa transizione perché ovviamente tutto questo cambiamento va accompagnato altrimenti sarà difficile da realizzare. Lo chiedono i consumatori questo è sempre più vero in un mondo che cerca prodotti diciamo di qualità in cui la qualità faccia rima anche con sostenibilità di costi energetici parleremo dopo per cui diciamo l'aspetto di convenienza lo chiede la necessità di avere un uso più razionale delle risorse perché oggi noi stiamo vivendo la crisi energetica però ci sono tante altre materie prime tra virgolette in esaurimento per cui diciamo che prevenire forse anche in certi casi è meglio che curare perché non vorrei che quello che sta succedendo oggi per il gas domani succeda per qualche altra materia prima all'interno dei nostri processi produttivi ma cosa vuol dire quindi trasformare e generare valore sostenibile? Vuol dire operare su diverse dimensioni perché se vogliamo veramente trasformare il modello di business noi sicuramente dobbiamo intervenire nei processi aziendali e Blue Foundation ci parlerà in particolare dei processi dell'operation legati all'energia ma trasformare il modello di business significa anche ripensare la nostra governance spesso si sente sempre più parlare di stakeholder governance che non vuol dire estromettere la proprietà dal capitale ma vuol dire che sempre di più altri stakeholder devono avere voce in capitolo nella nostra governance perché altrimenti senza questo tipo di alleanza sarà molto difficile creare valore e questo porta anche all'ascolto vero all'inclusione di quelle che sono le aspettative degli stakeholder esterni oggi non è argomento di discussione però pensate a quello che sta capitando col fenomeno delle grandi dimissioni il fatto che sempre più persone milioni di persone si dimettono volontariamente perché non trovano più nel posto del lavoro la condivisione di un loro stile di vita di valori reali quindi il posto di lavoro non solo per la pagnotta ma anche per l'autorealizzazione e poi soprattutto bisogna misurare gli impatti io all'inizio ho fatto vedere gli SDGs vanno bene gli SDGs però noi dobbiamo guardare il nostro giardino di casa perché non vorrei che gli SDGs diventassero un alibi per dire guardiamo il mondo il mondo va bene ma a parte quelle poche decine di multinazionali le cui operation impattano sul mondo credo che sia più corretto misurare gli impatti in quel contesto locale regionale o nazionale in cui invece le nostre attività generano veramente cambiamento e in fondo io penso in fondo a questa riflessione che siamo arrivati un po' a un bivio nel senso che la sostenibilità di cui oggi si sente parlare ogni tre per due stamattina sono stato anche intervistato dalla RTL mai nella mia vita mi sarei immaginato che qualcuno mi facesse un'intervista sulla sostenibilità però abbiamo due strade o la prendiamo veramente come un'opportunità per ripensare il nostro modo di pensare il business oppure la possiamo interpretare dal punto di vista biecamente di compliance e alla fine come diceva il gatto pardo facciamo finta di cambiare tutto perché non si cambia niente e questo credo che dal mio punto di vista sarebbe un grosso errore perché il mondo sta andando invece in un'altra direzione quindi io chiudo facendo un augurio a voi che lavorate in questo settore io penso che per l'Italia che è un paese povero di materie prime che è riuscita e di energia in primo luogo che è riuscita grazie al suo ingegno a fare quello che ha fatto perché siamo la settima ottava potenza industriale il secondo paese manifatturiero d'Europa la sostenibilità è veramente l'opportunità di affrancarsi di liberarsi dalla dipendenza di fonti fossili ne parleranno gli amici di Blue Foundation e di materie prime però per farlo dobbiamo essere visionari immaginare un futuro che oggi non c'è coraggiosi perché il cambiamento ha molti nemici e quindi bisogna avere il coraggio di diciamo di uscire dal conformismo e di essere tenaci perché ovviamente non sempre le ciambelle riescono col buco alla prima volta quindi il mio augurio è che nella vostra professione riusciate a a mettere in pratica questi questi modesti consigli vi ringrazio per l'attenzione e lascio la parola agli amici di Blue Foundation grazie grazie mille Danilo passo adesso la parola a Marco Colombari di Blue Foundation che ci parlerà del degli aspetti energetici nel settore conciario e Marco è ingegnere energetico a Blue Foundation e rispecializzato nell'individuazione di nuove soluzioni opportunità per combinare la decarbonizzazione con lo sviluppo economico delle PMI Marco a te la parola grazie 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 mille Luca mi confermate che mi sentitemi e vedete lo schermo intero assolutamente sì perfetto grazie Luca e grazie Danilo per l'introduzione buon pomeriggio a tutti di nuovo per chi ci fosse all'inizio per chi anche si è collegato dopo come introduceva Danilo noi ci concentraremo da questo momento in poi sulla transizione energetica con un focus chiaramente sul settore conciario passando diciamo alla scaletta passiamo da un minimo di contesto che ha già fatto per la gran parte Danilo e su cui non spenderà ulteriore tempo ci caleremo quali sono gli usi energetici tipici di una conciaria Marco Giannotti mio collega vi parlerà invece di quali sono alcuni casi studio interessanti e interventi di efficienza e autoproduzione che sono particolarmente permettenti per il vostro settore e vedremo una serie di opportunità di finanziamento che sono aperte in questo momento vediamo qui un altro triangolo similare a quello che abbiamo visto di prima in questo caso vogliamo spiegarvi che quando parliamo di transizione energetica parliamo di un approccio che è integrale un approccio che va a ridurre in primisi i consumi energetici ma va anche a ridurre quelle che sono le emissioni di CO2 le due cose tipicamente possono andare di pari passo non è detto che una riduzione della CO2 sia per forza un aumento dei costi si possono avere riduzioni di costi e riduzione della CO2 allo stesso tempo bisogna avere il mix ottimo di interventi da fare parlare diciamo tra di loro tutto ciò non è solo al fine dell'ambiente al fine del risparmio ben gradito di soldi soprattutto in questo momento ma permette anche di aumentare la cosiddetta resilienza aziendale resistenza diciamo ai fattori esterni capacità di adattarsi dell'azienda per la nostra esperienza che viene sia diciamo da large corporate ma si è anche calata più recentemente nell'ambito PMI i primi ad avere affrontato le tematiche di transizione energetica proprio per questa serie di motivi le contingenze di questi giorni si stanno trovando con un certo vantaggio competitivo ho finito diciamo il momento introduttivo e ci caliamo subito in un contesto che spero a voi familiare con questo rendering 3D di una conceria in cui andremo a parlare brevemente degli usi energetici che la caratterizzano abbiamo in primo luogo l'elettricità l'elettricità di cui dopo vedremo qual è il tipico uso percentuale all'interno di una conceria tipo diciamo che può essere diciamo utilizzata sia per usi di processo sia per usi cosiddetti chiamiamoli ausiliari quindi in questo caso per esempio l'elettricità viene utilizzata in tutta quella serie di motori che movimentano i macchinari tra i quali per esempio i bottali l'elettricità viene utilizzata sempre in motori per quelli che sono per esempio il movimento di vento le di aria che mettiamo dopo l'elettricità viene usata infine anche per l'illuminazione che può essere più efficiente o meno anche se ormai diciamo l'illuminazione è una fetta poco rilevante grazie grazie alle tecnologie LED come annunciavo adesso sicuramente un'applicazione un uso energetico non di processo ma che è sempre presente è quello del cosiddetto HVAC quindi calore ventilazione e raffrescamento che sia per scopi diciamo di poter sopravvivere fisicamente all'interno del loro stabilimento sia per questioni di filtraggio cambiamento aria aspirazione fumi quant'altro sono consumi a cui a volte non si pensa ma anche questi sono presenti e possono andare sicuramente ad impattare sui bilanci energetici finali dello stabilimento acqua calda vettore assolutamente reponderante tant'è che diciamo le concierie usano grandi quantità di acqua calda acqua calda non ad altissima temperatura tipicamente ma in grandi quantità quindi rappresenta sicuramente una fonte un vettore energetico tipicamente ottenibile tramite gas naturale ma non solo può ottenere anche tramite elettricità che è assolutamente di rilievo e su cui sarà importante andare a concentrarsi di cui Marco vi parlerà nelle successive slide abbiamo anche usi di vapore per esempio nel nei processi di asciugatura delle pelli può essere utilizzato vapore per scaldare l'aria o anche nei processi cosiddetti di condizionatura abbiamo anche l'aria compressa che può venire utilizzata per esempio mi viene in mente nella nella spruzzatura delle vernici l'aria compressa è un vettore energetico invisibile a cui si tende magari a non fare caso ma se pensiamo che l'efficienza per produrre l'aria compressa è di circa il 10% quindi vuol dire che se io butto dentro 100 di elettricità per farla 90 lo butto e solo 10 lo ottengo capiamo subito quanto sia importante andare a vedere che non ci siano perdite e che sia usata efficacemente efficientemente e diciamo che fisiologicamente per quanto riguarda l'aria compressa nelle reti si ha un 10-20% di perdite se abbiamo delle reti datate e non si è mai fatta una ricerca perdite si può arrivare anche al 40-50% e va a impattare sui costi questo è certo andiamo a vedere ora la ripartizione di questi usi energetici che abbiamo appena introdotto nella conceria abbiamo un consumo che secondo un report europeo sul settore conciario si attesta a circa 20,5 kilowattora a metro quadro di pelle prodotta non stiamo parlando dei consumi di un'acciaieria ma sono comunque consumi non trascurabili prendete diciamo i dati che vedete in questa slide con le dovute precauzioni perché sono ovviamente dati generali basati su audit progressi e basati su report generici quindi potete tranquillamente non trovarvi in questo caso per esempio questo è un caso in cui non c'è un cogeneratore e c'è una caldaia che va a fare gli usi termici mentre l'elettricità fa tutti gli altri usi di cui parlavo prima tipicamente però in questo caso vediamo che il gas utilizzato per produrre calore per il processo principalmente ma non solo può essere anche acqua calda sanitaria può essere diciamo HVAC va a costituire la gran parte dell'uso più o meno si ripartisce in maniera equilibrata tra vapore ed acqua calda per esempio per quanto riguarda l'elettricità invece abbiamo come abbiamo anche già visto prima una moltiplicità di usi l'illuminazione ci si pensa subito è uno dei primi interventi che si vanno a proporre perché è facile e immediato ma ormai diciamo conta poco soprattutto in un contesto come quello della conceria si ha poi una ripartizione bene o male diciamo equa e variante a seconda della situazione tra motori elettrici utilizzati per tutte le applicazioni di movimentazione di lavoro meccanico diciamo di cui parlavamo prima aria compressa quindi stiamo andando a creare un altro vettore energetico o diciamo trattamento aria trattamento e condizionamento aria abbiamo però dato dei problemi degli usi andiamo a vedere una brevissima introduzione su quelle che possono essere invece le soluzioni anzitutto per la transizione energetica e quindi diciamo risparmio costi risparmio emissioni e comunicabilità diciamo dal punto di vista green il primo risparmio è sempre quello della riduzione quindi riduzione vuol dire efficienza energetica per esempio ottimizzazione ottimizzazione vuol dire non andare a capofitto su un singolo intervento perché ci piace o perché l'abbiamo visto letto da qualche parte significa fare parlare tra loro tutte le diverse soluzioni implementabili caso per caso nella maniera ottimale questo si fa tramite modellistica ottimizzazione diciamo software e quant'altro sempre parlando di efficienza energetica si possono andare a individuare i recuperi di calore da fluidi di processo tipicamente o da fumi per esempio che escono da forni parlando di rinnovabili si può valutare il fotovoltaico per esempio il solare termico chi osa di più può parlare anche di eolico tipicamente non è il caso in Italia si parla comunque di soluzioni di autoproduzione che in questo periodo ci permettono tipicamente di staccarci dalle fluttuazioni dei rischi della commodity energetica poi parliamo anche di soluzioni più avanzate diciamo che sono proprio avveneristiche ancora in questo momento nonostante se ne parli molto sta tornando fuori l'idrogeno sta avvenendo sta riscuotendo interesse anche l'ambito della cattura del CO2 e perché no nell'ambito dei biocombustibili soprattutto per chi ha scarti organici che potrebbe essere il caso in parte delle concerie si parla anche di biogas il concetto come abbiamo scritto sotto riassunti in inglese come piace dire loro there is not a single silver bullet technology quindi non abbiamo un proiettile unico che risolve tutto ma bisogna fare parlare queste cose tra loro ora Marco come annunciavo ci parlerà di alcuni di questi interventi che abbiamo ritenuto possano essere più promettenti proprio per l'ambito conciario condividi tu Marco vai allora tolgo io la condivisione pausa tecnica allora interrompi condivisione ok buongiorno a tutti vedo intanto che c'è una domanda credo o sbaglio sì ma in realtà la domanda è semplicemente se la registrazione sarà disponibile ah perfetto allora non è compito mio no ne approfitto a questo punto per rispondere a chi l'ha fatta direttamente dal vivo ma sì la stiamo registrando e sarebbe nostra intenzione poi metterla sul nostro canale youtube sempre che Blue Foundation e The Vigili siano d'accordo assolutamente nessun problema allora confermo che la metteremo poi sul nostro canale Unic Group TV su youtube grazie prego benissimo allora buonasera a tutti ringrazio Marco Colombari e Danilo The Vigili per l'introduzione che mi porta a parlare a questo punto di alcuni spunti tecnologici che possiamo andare a trovare per risolvere il problema della transizione energetica andando a selezionare quelle che possono essere le soluzioni più applicabili per i vettori energetici di cui ci ha parlato Marco quindi abbiamo visto come l'utilizzo di gas sia una una componente molto importante della ricetta energetica delle concerie sia una produzione di vapore per una produzione di acqua calda e partirei proprio da una delle applicazioni forse meno conosciute in ambito industriale perché poco standard diciamo molto un'applicazione da andare a cercare da andare a studiare caso per caso che va a contrapporsi alla gestione standard dei vettori termici tipicamente il calore sotto forma di vapore o acqua calda viene prodotto in centrali termiche tramite caldaie o cogeneratori un'alternativa molto interessante è data dalle pompe di calore pompe di calore per la produzione di calore di processo quindi macchinari che come vedremo si distinguono si differenziano nella forma e anche leggermente nel principio da quelle più comunemente note utilizzate per il riscaldamento degli edifici il riscaldamento degli ambienti sono macchine che hanno il vantaggio di utilizzare l'energia elettrica per produrre il calore ma soprattutto il vantaggio è quello di andare a recuperare parte di calore residuale laddove disponibile ad una temperatura di scarto bassa e tendenzialmente non utilizzabile dai processi il ruolo della pompa di calore è quello di prendere del calore residuo a bassa temperatura ed elevarlo di temperatura al livello necessario al processo questo lo fa con un'efficienza molto elevata parliamo di COP coefficient of performance dei valori che vanno tra i due tre e quattro cosa vuol dire questo numero vuol dire che spendendo un kilowatt di potenza elettrica si ottengono tre kilowatt di potenza termica e questo è il vero vantaggio che le differenze rispetto ad altre approcchiature elettriche come per esempio le caldaie elettriche perché anche se l'elettricità costa più cara rispetto al gas con un'efficienza così elevata riusciamo a essere competitivi rispetto alla soluzione tradizionale questa è una soluzione in alto a destra vedremo per questa tecnologia due indicatori uno che ci indica quanto la soluzione ci aiuta nell'indipendenza dalle fonti fossili e quanto ci aiuta nella riduzione dei costi vedremo che alcune delle soluzioni saranno più forti sull'una altri più forti sull'altra quando parliamo di pompe di calore queste sono soluzioni che ci aiutano molto nella riduzione dei consumi di gas un po' meno sulla riduzione dei costi perché come vedremo bisogna trovare il giusto bilancio tra i costi dell'equipment il costo dell'energia elettrica che è tutt'altro che trascurabile però dopo vedremo un caso studio con un business plan e vedremo come anche i tempi di ritorno possano essere interessanti applicazione dicevamo produzione di acqua calda di processo con un range di temperature che arrivano fino agli 85 gradi tendenzialmente oltre non è impossibile ma diventa difficile sorgenti di calore possono essere utilizzate qualunque calore di scarto rigettato dal processo tipicamente possono essere sistemi di torri evaporative o dissipatori collegati per esempio alle centrali frigorifere o alcuni macchinari sono loro stessi raffreddati con acqua di raffreddamento che possono scaricare poi in ambiente a 30-40 gradi quello è calore preziosissimo che la pompa di calore può utilizzare per produrre un vettore termico più interessante andiamo a vedere come da un punto di vista impiantistico questi macchinari possono andare a interfacciarsi in un sistema esistente qui vedremo tre configurazioni possibili la prima è quella che vede la pompa di calore recuperare del calore di scarto da una centrale compressori compressori raffreddate ad acqua quindi qua vedete diciamo in tutte le prossime slide vedrete in alto a destra la centrale termica con le caldaie che producono acqua a 80 gradi e ritorno a 75 gradi in basso a sinistra abbiamo una centrale frigo che produce acqua a 7 gradi con ritorno a 9 gradi e tutti questi gruppi frigo sono collegati a delle torri evaporative per il raffreddamento e quindi per lo scarico verso l'ambiente esterno del calore qui in basso abbiamo due compressori aria uno dei due è raffreddato ad acqua questo compressore è raffreddato ad acqua con acqua che esce a 50 gradi e torna a 25 e quindi è una temperatura troppo bassa per essere utilizzata per produrre questo calore a 80 gradi la pompa di calore cosa fa? prende questo calore a 50 gradi dal cosiddetto lato evaporatore e lo trasferisce agli 80 gradi lato condensatore questa è una configurazione che garantisce un'ottima efficienza del sistema ottimizza anche la centrale compressori qualora ci fosse una centrale compressori che può essere raffreddata d'acqua ne abbiamo riscontrato in questo caso stiamo parlando di un caso applicato in un'industria alimentare che non è diciamo un settore così distante da quello delle concerie dal punto di vista degli utilizzi energetici abbiamo molto vapore molta acqua calda aria compressa eccetera il problema è che i compressori hanno un utilizzo molto intermittente e quindi la messa a disposizione di questo calore di scarto è molto intermittente di conseguenza una configurazione invece più continuativa più sicura è quella di andare a interfacciare la pompa di calore sul lato dove va ad attingere dal calore a bassa temperatura dai sistemi dissipativi di una centrale frigorifera qui la temperatura è un po' più bassa parliamo di trenta gradi più o meno il che fa abbassare un po' l'efficienza della pompa di calore ma consente un utilizzo più continuativo questo è dalla nostra esperienza un po' l'applicazione più più semplice anche perché tendenzialmente di calore a questa temperatura quindi una temperatura poco superiore a quella dell'ambiente ma costante tutto l'anno quindi immaginatevi anche d'inverno avere a disposizione trenta gradi la pompa di calore mantiene un'efficienza costante durante tutto l'anno e nella nostra esperienza è la configurazione che è un po' più applicabile rispetto alla precedente un'ultima configurazione invece molto interessante è quella che vede la pompa di calore lavorare nel cosiddetto doppio effetto caldo freddo quindi se da un lato stiamo producendo acqua calda 80 gradi contemporaneamente l'acqua la pompa di calore sull'altro lato sta producendo un'acqua fredda a 7-8 gradi questo che cosa comporta? comporta che la stessa macchina abbia un doppio effetto utile ci contribuisce la produzione di acqua fredda da un lato e la produzione di acqua calda dall'altro le controindicazioni in questo caso sono molte diciamo sono due principalmente la prima è che ci deve essere contemporaneità di esigenza di raffrescamento e riscaldamento questo non sempre è possibile perché la domanda di raffrescamento cresce molto nei periodi estivi al contrario la domanda di riscaldamento cresce molto nei periodi invernali quindi questa applicazione è possibile solo qualora sia necessario calore di processo e acqua fredda di processo con una valore più o meno costante durante l'anno e l'altra controindicazione è che per una pompa di calore fare questo salto di temperatura quindi tra i 7 e gli 80 gradi siamo poi ai limiti di funzionamento della macchina e quindi l'efficienza si degrada molto peggiorando l'efficienza consumerà più energia elettrica per produrre calore non siamo più a quel 3 di coefficient of performance ma siamo più vicini a un 2 e mezzo e quindi spenderemo di più sulla bolletta elettrica per vedere come può essere dimensionato una macchina di questo tipo andiamo a vedere in questo grafico molto molto incasinato ma vediamo una curva blu che è sostanzialmente durante tutto l'anno quello che è il carico freddo la domanda fredda del nostro processo e vediamo che nella parte centrale dell'anno quindi in estate da una richiesta molto alta di 4,5 megawatt frigoriferi e la curva rossa che si vede di meno qua sotto è più alta nel periodo invernale intorno a un megawatt un megawatt e mezzo ed estate scende invece a valori di qualche centinaio di kilowatt ora configurando la pompa di calore in doppio effetto dobbiamo sostanzialmente dimensionarla sul lato più svantaggiato e quindi ci sarà in questo caso il lato caldo che fa da collo di bottiglia quindi non potremo andare a produrre tutto il freddo e tutto il caldo ma dovremo trovare una dimensione che ci faccia il cosiddetto base load quindi ci produce un carico costante di caldo e di freddo e l'integrazione di caldo e l'integrazione di freddo saranno comunque fatte dalle apparecchetture convenzionali gruppi frigo e centrali termiche a gas o in altro modo questo è appunto un caso studio che abbiamo analizzato per un'industria alimentare e quello che vorrei farvi vedere ragionare insieme a voi e questo grafico che troveremo anche per le prossime tecnologie cioè quando noi andiamo a parlare di payback time non dobbiamo dobbiamo stare attenti quando parliamo di payback time perché il tempo di ritorno dell'investimento sostanzialmente lo calcoliamo come il rapporto fra il costo della spesa dell'investimento divisa per i risparmi o per le differenze di flussi di cassa e questi dipendono strettamente dai costi dell'energia quindi lo stesso intervento calcolato con i prezzi di dell'anno scorso di un anno e mezzo fa ci dava ci restituiva dei tempi di ritorno di investimento di 4-5 anni solo per l'equipment considerando che poi costi di integrazione in casi particolari magari ci sono piping particolari da realizzare l'intervento può diventare più costoso spesso questo tempo di ritorno di investimento andava verso intervalli non interessanti diciamo guardandolo però con i prezzi di oggi quindi andiamo su adesso di oggi di quando ho fatto questa slide quindi già oggi sono molto diversi però quando andiamo su prezzi di gas sopra i 100 sopra i 120 sopra i 140 euro al megawattora e di conseguenza prezzi dell'elettricità che vanno tra i 300 e i 400 euro al megawattora il tempo di ritorno di nezza questo per dire che cosa che chi si è trovato a implementare soluzioni di questo tipo accettando dei payback time previsti un po' più lunghi di quelli solitamente accettati oggi si trova probabilmente con la perechiatura già pagata qui ritroverete anche nelle nelle parti di destra una una stima del valore attuale netto quindi in questo caso abbiamo fatto una valutazione con una pompa di calore da 100 kilowatt un COP 2.5 quindi non brillantissimo investimento di circa 40.000 euro il tempo di ritorno circa due anni e mezzo e dopo 15 anni il valore attuale netto è di circa 100.000 euro questo ovviamente come dicevo prima valori da prendere con le pinze cioè con i valori di prezzi utilizzati al momento di creazione di questa slide quindi bisogna stare la cosa che che suggerisco di stare molto attenti quando si fanno queste valutazioni non prendere questi numeri per verità assolute ma fare piuttosto delle analisi di sensitività cioè che cosa succede se i prezzi che vediamo oggi cambiano radicalmente passando a un un argomento invece diametralmente opposto ma che va a combinarsi bene con la soluzione che abbiamo appena visto andiamo a parlare di autoproduzione di energia elettrica non c'è molto da dire sul fotovoltaico immagino che molti di voi già abbiano fatto qualche installazione o l'abbiano preventivata quasi tutti al giorno d'oggi chi ha un tetto a disposizione è sicuramente un ottimo investimento parla chiaro l'indicatore riduzione costi l'installazione di un impianto fotovoltaico non è una soluzione che ci permette di essere indipendenti dal gas di per sé lo è se lo accoppiamo per esempio alla soluzione di pompa di calore vista prima cioè andiamo a spostare il carico termico dal gas all'elettrico e quell'elettricità in parte ce la produciamo con il fotovoltaico però è un'ottima soluzione di riduzione costi perché la qualunque kilowattora autoprodotta è un kilowattora che non consumiamo dalla rete quindi non solo è a costo zero sulla materia energia ma evitiamo anche gli oneri di trasporto e le tasse tendenzialmente il consiglio è di partire dalle superfici piane dei tetti perché l'installazione è più semplice e meno costosa laddove ci siano però presenti anche terreni o parcheggi si possono valutare installazioni in pensilina nel caso dei parcheggi o a terra nel caso dei terreni stessa visualizzazione di prima nel caso del fotovoltaico dobbiamo dire che il fotovoltaico già pre-crisi aveva comunque un buon un buon ritorno di investimento oggi siamo comunque con tempi di ritorno abbastanza brevi oggi riscontriamo tuttavia dei problemi di approvvigionamento delle apparecchiature proprio dovute alla grandissima richiesta di installazione di impianti fotovoltaici quindi c'è un po' un collo di bottiglia nell'approvvigionamento dei materiali e questo ha fatto anche un po' aumentare i costi della installazione per cui vale la stessa regola di prima purtroppo per chi non ha potuto realizzarlo prima chi si trova oggi con un impianto installato è molto contento chi si trova a doverlo fare adesso è costretto a pagarlo un po' di più legato al tema del fotovoltaico volevo solo mettere qualche punto a riguardo delle comunità energetiche rinnovabili perché legate al fotovoltaico perché di fatto è la metodologia di autoproduzione elettrica rinnovabile più semplice più applicabile nulla vieta di fare una comunità energetica rinnovabile con un eolico ma è molto più difficile applicarlo brevemente cosa sono le comunità energetiche rinnovabili sono soggetti giuridici che mettono insieme più su base volontaria più enti che comprendono produttori di energia elettrica consumatori e i cosiddetti prosumer quindi all'interno di una stessa comunità energetica è sostanzialmente la creazione di un consorzio di aziende di enti privati di enti pubblici al di sotto della stessa cabina primaria e con una potenza complessiva non superiore a un megawatt i partecipanti alla comunità energetica possono ricevere i vantaggi di che cosa innanzitutto l'autoconsumo di energia elettrica prodotta all'interno della comunità non per forza sul tetto del proprio edificio ma magari sul tetto di un altro componente della comunità e inoltre la ricezione di un premio incentivante sull'incentivo siamo un attimo in attesa che venga completato e definito dalla Rera attualmente si parla di una tariffa premio di 110 euro al megawatt ora dovrebbe definirsi entro il 2000 entro la prima metà del 2023 la cosiddetta mappa delle comunità energetiche che permetterà a chiunque di identificare i possibili partner diciamo per la realizzazione di una comunità energetica sotto la stessa cabina di trasformazione su questo poi anche Danilo potrebbe avere qualche parola in più da spendere visto che anche lui è in parte coinvolto nella diciamo nella nella tematica quindi se avete poi domande proveremo a rispondere rimanendo in tema di rinnovabili parliamo di un'altra possibilità che diciamo il fratello minore del fotovoltaico ed è il solare termico solare termico che troviamo sicuramente applicato in maniera piuttosto diffusa in ambito residenziale e anche commerciale in ambito industriale ha un'applicazione molto più ridotta il motivo lo vedete dal cursore riduzione costi sostanzialmente è meno conveniente mediamente rispetto al fotovoltaico questo vuol dire che se ho dei metri quadri di tetto disponibili preferenzialmente andiamo a mettere del fotovoltaico perché per un motivo anche tecnico il collegamento di un impianto fotovoltaico è molto semplice e quando produce energia elettrica molto probabilmente io ne ho bisogno di quell'energia elettrica perché la produce di giorno e le mie attività sono pienamente operative sulla produzione di acqua calda innanzitutto non si tratta di collegare dei cavi ma si tratta di collegare dei tubi che quindi sono più complessi più costosi abbiamo bisogno di stoccaggi dell'acqua calda quindi anche la gestione e la manutenzione di questi impianti è più complessa e più costosa e inoltre c'è sempre bisogno di ovviamente di una contemporaneità di domanda termica al momento in cui stiamo producendo del calore l'altra limitazione è anche sulla possibilità di produrre calore alla temperatura necessaria molto spesso nell'industria sono richieste temperature o comunque vettori non compatibili è richiesto vapore mentre con il solare termico si può andare semplicemente a produrre acqua calda ovviamente si potrebbe fare con tecnologie a concentrazione ma i costi diventerebbero ancora più alti e diciamo che non vediamo molti casi applicativi di successo in questo campo quindi esiste la possibilità di dotarsi di impianti solari termici qualora ci sia una domanda costante o comunque sempre presente nelle ore centrali della giornata di acqua calda se questo succede il solare termico ha un vantaggio rispetto al fotovoltaico e il vantaggio è che a parità di superficie l'efficienza di trasformazione del fotovoltaico è di circa il 20% quella del solare termico è circa il 60% quindi a parità di metri quadri occupati io riesco a produrre tre volte tanto più o meno di potenza però in un caso produco energia elettrica che ha un valore di circa tre volte più alto economico e nel caso del termico invece se pensiamo al gas ha un valore economico il gas circa un terzo rispetto all'energia elettrica quindi questo fa di nuovo sì che tutto sommato il fotovoltaico alla fine la vince sempre e questo ci viene tradotto anche in questo grafico dove anche in situazioni di prezzi attuali il tempo di ritorno del solare termico non è proprio fantastico la stessa simulazione fatta pre-crisi ci dava dei tempi di ritorno assolutamente non interessanti passerei adesso a una e qui siamo verso la fine delle delle soluzioni cambiamo argomento e andiamo nell'ambito dei cosiddetti biocombustibili ovvero combustibili di origine biologica che quindi quando andiamo a provo a anticipare una domanda che potrebbe arrivare perché la biomassa o il biogas il biometano sono considerati biocombustibili e quindi neutrali al cambiamento climatico quando brucio la biomassa comunque sto producendo della CO2 che va in atmosfera è vero questo è verissimo ma sono considerati neutrali al ciclo della CO2 perché la il carbonio presente nel legno che sto bruciando è stato sequestrato durante la vita della pianta dall'atmosfera e quindi quando io brucio il legno la CO2 torna in atmosfera torna semplicemente dove era già prima e quindi non va ad alterare l'equilibrio di CO2 dell'atmosfera e quindi non contribuisce al riscaldamento globale questo è vero quindi per la biomassa è vero per il biogas è vero per il biometano per il qualunque combustibile anche liquido di origine vegetale la biomassa in particolare legnosa quindi parliamo di pellet o cippato può essere una soluzione particolarmente interessante per la produzione di vapore e acqua calda quindi una centrale termica che vada a produrre calore in maniera piuttosto costante è indicata principalmente per quelle applicazioni dove c'è una richiesta costante di calore perché la caldaia a legna la caldaia a cippato a pellet ha un'inerzia molto superiore rispetto alla caldaia gas quindi ha una minor possibilità di regolazione una caldaia gas è in grado di seguire molto bene i picchi anche molto forti di variazioni di richiesta di carico con la caldaia a biomassa questo è molto più complicato l'altra controindicazione ovviamente è che ha bisogno di più spazio spazio che qui vediamo rappresentato da questa trincea di stoccaggio del cippato che può andare a occupare superfici rilevanti quindi dobbiamo trovarci nella situazione in cui ci sia spazio disponibile di fianco allo stabilimento per lo stoccaggio della materia combustibile e l'altro vincolo ovviamente è che ci sia la possibilità di approvvigionarsi in un raggio ridotto intorno allo stabilimento con biomassa di origine sostenibile certificata tendenzialmente si individua un raggio di 50 massimo 100 chilometri per evitare che poi le emissioni legate al trasporto della biomassa vadano a compensare negativamente i risparmi di emissione legate all'utilizzo stesso della biomassa questo ne limita un po' l'utilizzo alle regioni nei quali ci sia una disponibilità di legna sufficiente direi tutte le regioni vicine all'Arcolpino ma anche vicine alla zona dell'Appennino sono fanno parte di questa di queste zone la legna di origine sostenibile certificata le due certificazioni tipicamente sono la FSC e la PEFC riconosciute internazionalmente garantiscono che la filiera sia sostenibile da tutto il punto di vista quindi non solo per le emissioni di CO2 ma anche per il corretto utilizzo del suolo e il corretto utilizzo delle foreste il vantaggio un ulteriore vantaggio che possiamo individuare nell'utilizzo di un combustibile legnoso di questo tipo è come dicevamo prima ha senso se troviamo un mercato locale quindi compreso in un raggio di 50-100 km questo vuol dire che tendenzialmente se stabiliamo un mercato locale è meno influenzato dalle fluttuazioni di mercati globali e totalmente fuori dal nostro controllo non è del tutto vero perché quando cresce il prezzo del gas e dell'elettricità cresce anche il prezzo di tutti gli altri combustibili perché ovviamente aumenta la domanda di combustibili alternativi ma diciamo che l'onda arriva un po' doppia un po' più smorzata quindi e inoltre possiamo considerarla una manovra di diversificazione quindi tendenzialmente non vediamo situazioni in cui il 100% dell'energia è fornita dalla biomassa ma la biomassa fornisce di solito ancora una volta il cosiddetto base load e l'integrazione può essere ancora fatta con gas naturale quindi la diversificazione delle fonti di ingresso è un altro dei preziosi consigli che ci teniamo a indicare più volte ci siamo trovati a studiare piani di transizione energetica per grandi multinazionali dove uno dei KPI uno degli indicatori che volevano essere inclusi nello studio di questi piani non erano solo riduzione dei costi e riduzione dei emissioni ma aumento della sicurezza nell'approvvigionamento energetico e questo era spesso dato dalla diversificazione dei flussi in ingresso anche in questo caso ci troviamo in una situazione in cui il cambiamento dei prezzi energetici dei costi energetici ha portato a un cambiamento radicale di quello che è considerato il tempo di ritorno dell'investimento è interessante valutare opzioni di approvvigionamento a lungo termine quindi stipulare contratti di fornitura di 3-5 anni con fornitori di questo vettore in modo da garantirsi un prezzo fissato per un lungo periodo chiuderei qua la parte sulle tecnologie per andare a vedere alcune aggiungerei solo scusami Marco la parte sulla conduzione delle centrali biomassa diciamo il personale necessario è equivalente a quello che è necessario per la conduzione di una caldaia a gas quindi diciamo a seconda della taglia sono necessari diversi patentini tipicamente si ha solo una formazione specializzata dall'installatore nel momento in cui diciamo la caldaia viene installata poi per quanto riguarda e anche per quanto riguarda la manutenzione ma per la conduzione ordinaria diciamo vale come per una caldaia normale solo questa precisazione esattamente per quanto riguarda la centrale termica sì ci sono appunto delle implicazioni in più che riguardano la gestione degli stoccaggi ma su queste taglie diciamo sono sempre semi automatizzati quindi c'è un po' di manodopera in più richiesta e un po' di manutenzione in più ma assolutamente gestibile dal normale conduttore degli impianti termici e prima di passare alle opportunità non abbiamo o meglio l'abbiamo citato più volte ne ha parlato prima Marco ne ho parlato prima brevemente io anche il biogas o il biometano sono un'opportunità che potrebbe essere rilevante per le concerie sappiamo che ci sono già alcuni progetti in ballo forse alcuni dei presenti sono anche coinvolti ovviamente questo va nella direzione anche della valorizzazione degli scarti di produzione quindi qualora ci fossero degli scarti di produzione per esempio degli sfridi di lavorazione o il come si chiama Marco il carniccio giusto che quindi materia organica che può essere sottoposta a processi di digestione anaerobica questi possono andare a produrre biogas che può essere utilizzato in loco tramite caldaie o motori a combustione interna per la coproduzione di calore e energia elettrica o addirittura essere trasformati in biometano per l'iniezione in rete e ricevere così incentivi per la produzione di gas rinnovabile se non ci sono domande sul visto ce n'era una in chat prima non so è scomparsa non so se era la stessa era sul fotovoltaico mi sembra sul Luca sei riuscito tu a vedere la domanda sì la domanda è di Elisabetta che nel frattempo è riuscita a collegarsi anche se in condizioni un po' precarie e la domanda è se il peso degli impianti fotovoltaici a tetto implica una ristrutturazione degli elementi portanti del capannone sottostante non in tutti i casi prima di effettuare un'installazione è necessaria una verifica strutturale del tetto quindi non tutti i tetti sono predisposti per l'installazione di impianti fotovoltaici quindi deve essere fatta una verifica del carico che può portare dei chili al metro quadro che possono essere installati sul tetto e questa è una verifica che può fare diciamo lo stesso installatore degli impianti fotovoltaici prima dell'installazione si fa sostanzialmente un assessment di quella che è la fattibilità di installazione abbiamo visto installazioni anche su tetti non per forza piatti anche quindi sui cosiddetti tetti a botte con una superficie quindi curva l'impianto può andare a seguire la curvatura del tetto di solito quello che si fa è se il tetto può portare il peso si installa se il tetto non lo può portare non lo si installa quindi è difficile che si faccia una manovra di riqualificazione strutturale del tetto per mettere il fotovoltaico o c'è di mezzo per esempio un tetto in amianto allora quello è il caso in cui si ricevono anche incentivi per lo smaltimento del tetto in amianto e la sostituzione con un nuovo tetto e l'installazione della superficie fotovoltaica quindi se ci sono già delle altre condizioni per il quale il tetto deve essere riqualificato allora sì diversamente si cercano delle superfici compatibili e idonee quello che si può fare in alcuni casi è la creazione di una sovrastruttura che vada ad appoggiare sulle strutture sui pilastri portanti che possono essere sul perimetro esterno della struttura per evitare di andare a caricare delle zone del tetto che non hanno il carico richiesto questo ovviamente porta a dei costi addizionali e quindi poi bisogna fare una valutazione di convenienza quindi il primo passo è andare a installare nelle superfici più facili di più facile utilizzo e se ci sono delle ulteriori superfici si va a valutare qual è il costo addizionale per rendere compatibile la superficie Marco secondo me se non ci sono domande su questo ulteriori puoi tenere direttamente condiviso te tanto mancano ok no scusi rifaccio subito mancano poche slide ok perfetto quindi diciamo che finora adesso abbiamo fatto vedere anche quali possono essere le soluzioni che a nostro avviso possono essere quelle più calzanti per il settore conciario andiamo a vedere quelle che sono attualmente o a brevissimo le opportunità disponibili per agevolare questi interventi su questo ovviamente invito anche Danilo a diciamo a intervenire se avesse qualcosa da aggiungere nella presentazione di questi tre bandi di finanziamento che andremo a vedere questo il primo che vediamo è quello un po' se vogliamo più impegnativo da un punto di vista degli investimenti e degli sforzi necessari per accedervi ovvero il ministero dello sviluppo economico nell'ottica di perseguire l'obiettivo della trasformazione green dei processi produttivi e garantire la sostenibilità e competitività dell'industria italiana ha diciamo introdotto questo incentivo nell'ambito del cosiddetto green new deal per la transizione ecologica circolare che cosa significa? Significa che va a sostenere imprese di qualsiasi dimensione nella realizzazione di progetti di ricerca industriale in particolare questi progetti di ricerca industriale possono essere dedicati a diciamo varie tematiche tra cui calzante per il webinar di oggi c'è quello della decarbonizzazione ed economia circolare quindi diciamo queste attività di ricerca e sviluppo devono essere volte alla realizzazione di nuovi prodotti processi o servizi come leggete o al miglioramento notevole di prodotti e servizi esistenti nel caso delle PMI non si tratta per forza di ricerca e sviluppo ma si può parlare anche di industrializzazione di una diciamo particolare tecnologia o processo quello che è importante è che questo deve andare a diversificare la produzione di uno stabilimento diciamo inserendo nella produzione prodotti o metodi alternativi e aggiuntivi come vedremo in questo bando e per i prossimi a sinistra abbiamo messo nella slide in evidenza diciamo i numeri di rilievo del bando in questo caso vengono coperti il 60% dei costi di progetto tramite finanziamenti agevolati e il 15% dei costi di ricerca e sviluppo tramite contributi a fondi e perduto e vediamo come vi annunciavo che in questo caso le spese ammissimili devono essere di un minimo di 3 milioni di euro per questo dicevo che è il bando diciamo più impegnativo a cui accendere ma probabilmente anche interessante soprattutto forse per le aziende di una dimensione un po' più un po' maggiore ecco questo è quanto per questo bando ci caliamo invece in una realtà più locale stiamo parlando della Lombardia l'abbiamo sottolineato perché diciamo ci sappiamo che era aperto proprio in questo momento è di decisamente più facile accesso è dedicato alle micro piccole e medie imprese ed è stata proprio neanche un mese fa innovata la dotazione di questo bando e va a coprire interventi di efficienza energetica del processo produttivo per le industrie qua è rimasto artigiane lo correggiamo non è più artigiane hanno tolto questa diciamo particolare digitura e in particolare per le industrie del settore manifatturiero anche non artigiane cosa finanzia? L'efficientamento energetico col vincolo che l'azienda deve essere l'impianto oggetto dell'efficientamento deve essere collocato in Lombardia sappiamo che alcuni di voi lo sono quindi l'abbiamo comunque diciamo inserito tra le proposte interessanti disponibili al momento si chiama efficienza energetica ma diciamo andando a leggere nel bando si rientrano in questo anche interventi di più ampio respiro di transizione energetica come quello delle rinnovabili dell'autoproduzione quindi diciamo che efficienza è un nomignolo che gli è stato dato ma copre anche un range più ampio di interventi in questo caso è fondo perduto 50% delle spese ammissibili che includono le installazioni necessarie eventuali software necessarie eventuale consulenza necessaria per l'installazione minimo 15.000 euro 50.000 euro il contributo massimo passiamo all'ultimo diciamo la perla finale di cui sono convinto di cui siate già a conoscenza per diciamo meriti vostri o per merito di di Unic che è il bando dedicato all'investimento innovativo ed ecosostenibili proprio nella filiera conciaria che è stata affetta prima dalla pandemia e ora dal caro energia e quindi diciamo il MISE ha per fortuna ben pensato di mettere a disposizione questo strumento che va a coprire il 50% delle spese ammissibili a fondo perduto quindi diciamo non con finanziamenti ma proprio a fondo perduto per fare programmi di investimento con elevato contenuto innovazione e sostenibilità in particolare diciamo gli scopi dei progetti che le aziende possono andare a finanziare con questo bando sono devono essere volti alla minimizzazione degli impiatti ambientali dei processi produttivi quindi si può parlare degli interventi di cui parlava Marco prima o anche dell'introduzione di innovazioni di prodotto processo che talvolta possono andare diciamo di pari passo con con anche la svolta green del processo produttivo diciamo come prima sono prego Marco scusami intervengo perché sì come hai detto tu ovviamente questa è una misura che è ampiamente a conoscenza del 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 settore abbiamo tra tra l'altro avuto un webinar a inizio settimana allora non mi dilungo su questa su questa misura e io ricordo a tutte le concerie associate che ci stanno ascoltando che abbiamo anche preparato un piccolo vademecum per poter cercare di ottenere supporto a tale misura Marco approfitto un attimo di questa pausa che ho fatto per farti una domanda che arriva tra l'altro dalla nostra dal nostro funzionario in Campania dottor Ciro Bruno che dice le concerie scaricano ingenti volumi di acqua di processo con temperature comprese tra i 50 e i 70 gradi quali soluzioni tecnologiche tecnologiche sono previste per sfruttare questi cascami termici con la pompa di calore lascio la parola in questo caso a Marco Gianotti che ha più esperienza sul campo di me e quindi sicuramente avrà una risposta ottimale ok sta in muto Marco ok non trovavo il microfono ok allora come dicevamo prima esatto uno scarico tra i 50 e i 70 gradi se ho capito bene 50 e i 70 gradi è una temperatura bellissima è una temperatura fantastica perché allora quello che in questo caso bisogna valutare è come viene generato il calore e come viene utilizzato in che periodi viene utilizzato perché di fatto abbiamo uno scarico a 50 e 70 gradi vuol dire che quella è una temperatura che non serve più bisogna capire se il calore viene somministrato al processo ad una temperatura di 80 85 gradi tramite acqua calda generata da una caldaia per esempio allora questo è un caso in cui la pompa di calore cosa può fare può prendere quel calore di scarto a 50 70 gradi e rielevarlo a 80 85 gradi per farlo tornare al processo il calore a 70 gradi ormai non ci serve più perché è sotto al livello di temperatura che ci serve la pompa di calore lo riporta alla temperatura di prima i punti di attenzione sono la temperatura di somministrazione del calore al processo e la contemporaneità o lo sfasamento temporale nel senso che se sono processi cosiddetti batch quindi io ho un carico e uno scarico bisogna fare in modo che lo sfasamento temporale sia compensato con degli stoccaggi di acqua calda che però penso che tra l'altro siano già presenti quindi in questo caso lo studio di un'applicazione pompa di calore sarebbe molto interessante da valutare con molta attenzione ma sicuramente c'è un potenziale di recupero termico molto molto elevato se ci sono domande più approfondite siamo molto interessati ad approfondire il tema per il momento no ok grazie possiamo andare avanti io in realtà avevo aspetta che si è muto ok io in realtà diciamo avevo chiuso la presentazione con questa slide su cui non appunto non mi dilungo ancora siccome siete benedotti sul tema ovviamente adesso con la modalità e la chat diciamo per quanto sia immediata siamo aperti a qualsiasi domanda da parte vostra su tutti i temi coperti e non solo perfetto io quindi invito chi avesse domande commenti o dubbi a farli in questo momento io volevo aggiungere una precisazione un commento rispetto alla prima misura che ha fatto vedere Marco Colombaria la cui entità dai 3 ai 40 milioni di euro ci porta necessariamente nella modalità di costituzione di paternariati non era specificato Marco quindi mi permetto di aggiungerlo perché e questo riporta un po' il ragionamento che facevo io all'inizio la sostenibilità per cogliere l'opportunità ci vede anche ci invita ad aprirci a collaborazioni quindi progetti di innovazione e ricerca di quella dimensione anche noi lavoriamo per multinazionali si fanno in paternariato con università centri di ricerca fornitori fornitori di tecnologia studi di ingegneria eccetera e quindi quelle cifre vanno viste su una panel di di soggetti dove come diceva Marco magari all'industria conciaria aspetta il ruolo dell'industrializzazione all'interno di un percorso che può durare anche più anni perché ovviamente passare da un da un'idea di ricerca ad un'industrializzazione richiede molto tempo ed è per questo che vengono dati anche molti soldi ottima ottima precisazione assolutamente io ho un paio di domande qui in chat allora la prima è in merito a quest'ultima domanda che è quella di prima fatta dal collega Bruno quindi sulle acque in uscita l'acqua in ingresso alle pompe di calore ha bisogno di alcune caratteristiche la stessa caratteristica dell'acqua tecnica delle caldaie cioè è proprio esattamente lo stesso circuito la pompa di calore ha il suo circuito chiuso di fluido refrigerante ma dopodiché il calore viene scambiato in uno scambiatore di calore tipicamente a piastre o tubi e mantello con l'acqua tecnica del circuito dell'acqua dell'acqua di processo quindi è lo stesso circuito dell'acqua calda perfetto altra domanda per caso il fotovoltaico è oggetto di Sabatini? Sabatini in questo momento diciamo io personalmente mi coglie impreparato non so se Danilo sai qualcosa o Marco no non mi pare non mi pare in questo momento stanno uscendo delle misure specifiche sul fotovoltaico come faceva vedere Marco in alcune regioni ci sono e in alcuni settori si è in attesa di un bando mise per l'elettrificazione che diciamo adesso governo nuovo dovrebbe mettere noi stiamo noi abbiamo anche una divisione che si occupa di finanza agevolata e stiamo lavorando con alcune aziende non del vostro settore ma quando parliamo di fotovoltaico non mi è finora non mi è capitato di incontrare la Sabatini come misura di agevolazione devo dire che sul fotovoltaico l'ultima vera misura di incentivazione è il conto energia del 2013 forse anche per questo che ci siamo dimenticati di farlo in questi dieci anni diciamo che il governo tutti i governi non sono venuti molto in conto all'industria noi abbiamo misure sul fotovoltaico per il civile ovviamente dall'eco bonus in più recentemente è uscito un bando per l'agri solare io sono ancora in attesa di qualcosa di serio sull'industria perché a me risulta l'ultimo bando 2013 ultimo conto energia quindi diciamo che quando forse era necessario dare l'incentivo perché oggi come diceva Marco Gianotti diciamo regge sulle sue gambe diciamo ecco è già un investimento piove sul bagnato diciamo forse qualche anno fa quando c'erano quei payback di 5, 6, 7 anni probabilmente sarebbe stato molto utile farlo ma non è stato fatto perfetto altra domanda la cogenerazione può rientrare nella transizione energetica? questo è un tasto caldo un tasto dolente potrei dire la cogenerazione è stata spinta sponsorizzata moltissimo negli anni negli anni nei decenni scorsi adesso è un tema più dibattuto diciamo di per sé è una misura efficace molto efficiente cioè se confrontato con il rendimento medio del parco nazionale un cogeneratore ben dimensionato ben progettato ha delle efficienze molto alte e quindi è una misura di efficienza che non è da escludere a priori tuttavia se un'azienda vuole intraprendere un percorso di allontanamento dalle fonti fossili in questo momento consigliamo di prendere in maniera molto cauta in considerazione la realizzazione di un cogeneratore e soprattutto se fino a qualche anno fa si tendeva a dimensionare sulla taglia più grande possibile il cogeneratore adesso più che altro se di un cogeneratore bisogna parlare consigliamo di rimanere su taglie più basse che quindi di nuovo vadano a fornire una base per la per la produzione di energia elettrica e termica ma che lasciano spazio ad integrazioni e un motivo per il quale si cerca se si vuole guardare al problema in una con un'ottica di lungo periodo e con un con un programma completo la cogenerazione deve rimanere un attimo di sparte e che nel momento in cui si ha una cogenerazione che quindi mette a disposizione anche del calore praticamente in forma gratuita mettiamo un tappo a tutte le potenzialità di efficientamento energetico e soprattutto di recuperi termici perché sostanzialmente tanto c'è il cogeneratore che ci produce calore gratis mentre applicazioni come le pompe di calore e i recuperi termici se non c'è il cogeneratore vengono valorizzate molto di più quindi chi ad oggi non si è dotato di un cogeneratore il nostro consiglio è prima cerchiamo di fare tutti i recuperi termici e tutto il possibile senza la cogenerazione e poi se c'è ancora spazio per la cogenerazione un piccolo cogeneratore non fa male però sicuramente è meglio abbandonare il concetto che veniva promosso fino a qualche anno fa cioè di andare a mettere un cogeneratore anche un pelo più grande del necessario posso integrare Marco la valenta avrei integrato anche io ma vai pure Danilo no dicevo esperienza personale a proposito del dimensionamento bisogna fare molta attenzione perché a seconda della situazione in cui si trova l'azienda a volte il cogeneratore ha fatto entrare alcune aziende nel sistema ETS cioè sapete quello per i grandi utilizzatori perché magari le tecnologie utilizzate prima si usava magari energia elettrica dalla rete eccetera con l'arrivo del cogeneratore è aumentato il volume di gas utilizzato e quindi ETS vuol dire comprare crediti di carbonio quindi dal punto di vista anche economico quello che poteva essere il vantaggio di efficienza parliamo epoca pre-crisi dei costi del gas veniva veniva mangiato dai costi aggiuntivi che richiede il sistema ETS quindi per confermare l'attenzione che diceva Marco sul dimensionamento ecco e anche perché il valore dell'ETS che qualche anno fa era intorno ai 25 euro a tonnellata di CO2 adesso è sopra gli 80 e in direzione dei 100 e anche oltre euro a tonnellata di CO2 quindi un peso molto rilevante sì diciamo volevo solo aggiungere che se anche se diciamo se non sbaglio la cogenerazione ad alta efficienza rientra nella cosiddetta diciamo tassonomia EU degli interventi etichettati come diciamo sostenibili efficienti e quant'altro nell'ottica di appunto quello che dicevamo all'inizio resilienza e indipendenza le fonti fossili diciamo metterci una protezione dai rischi che possono essere quelli delle fluttuazioni del mercato se non si ha diciamo la disponibilità per esempio di biogras da un contadino del loco per alimentare il cogeneratore come dicevamo diciamo va preso molto con le pinze bisogna fare analisi dettagliate e pensarci diciamo due volte prima di andare mettere un cogeneratore magari anche sovradimensionato ecco solo questo ci sono altre domande mi rivolgo ai partecipanti non ne vedo e di conseguenza se ci sono delle considerazioni finali che volete fare mi rivolgo ai relatori se no io prego Marco io direi che ringraziamo tutti per la per la partecipazione e qualora ci fossero domande che magari sopraggiungono dopo qua potete trovare un nostro nostro riferimento forse erano presenti anche nella nella mail d'invito siamo siamo disponibili per per chiarire anche Danilo di Collectibus qualunque dubbio in merito perfetto io allora vi vi ringrazio ringrazio chi ha partecipato faccio appunto presente che la registrazione del di questo webinar sarà poi disponibile appunto sul nostro canale YouTube e nel caso in cui aveste dubbi iscriveteci noi gireremo o scrivete direttamente a Blue Foundation o a Collectibus oppure potete scrivere a noi e noi faremo in modo poi di di convogliare i dubbi le domande a loro e niente vi ringrazio ancora siamo stati perfetti sono le sei il tempo il tempo di chiusura del webinar che avevamo previsto quindi grazie ancora a tutti e buona serata grazie a tutti arrivederci arrivederci salve